Buonasera a tutti, io sono Naila, cantante interprete teatrale, sono intervenuta in questa manifestazione in Oriente Soscuro, perché sono anche la sorella della regista Grazia Liguori. Sono in una mia pausa di vacanza, per così dire, perché io vivo in Inghilterra, ma prima di trasferirmi in Inghilterra ho lavorato molto tempo in teatro come cantante, ho fatto musical e ho fatto anche delle trasmissioni televisive e ne ho in programma un'altra che andrà in onda sul Televonio, di canzoni classiche. In questa occasione invece ho cantato in lingua ebraica, due brani della cantante israeliana Of Haasa, quindi entrambi in lingua ebraica, i cui titoli erano No Song e Yerushalayim Shel Zaham, che vuol dire Gerusalemme tutt'avore. Grazie.